Amici Trebi Meteo, benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì che nel complesso sarà buona in gran parte d'Italia, si allontana infatti verso leggeo la perturbazione transitata da noi, un nuovo sistema nuvoloso è pronto a raggiungere l'Italia ma arriverà mercoledì. Quindi diciamo per questo martedì situazione tranquilla, anche come nuvole vedete saranno presenti ampie zone di sereno, al mattino un po' di variabilità ancora all'estremo sud e poi in giornata però cominciamo a rivedere qualche nuvole al nord, si avvicina la nuova perturbazione. Come precipitazioni però situazione davvero tranquilla, al mattino proprio il residuo di pievasca all'estremo sud ma in rapido allontanamento, per il resto nulla di particolare da segnalare, solo alla fine del giorno arriveranno le prime piogge sulle regioni di nord ovest. Quindi in definitiva ci attende un martedì diciamo buono da nord a sud, un po' di variabilità al mattino nelle estreme regioni meridionali ma in miglioramento e poi attenzione a nebbia e foschia al primo mattino in pianura padana, quelle si potrebbero formarsi e essere anche piuttosto estese e insistenti, poi però si dissolvono a fine giornata, nubi in aumento al nord per la nuova perturbazione. Come temperature e valori tutto sommato piacevoli, in alcune zone ci avvicineremo ai 20 gradi, per i dettagli scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.